Ma no, che cazzo devo fare? Se lo trovo però non era eh, lo stavamo bloccato. Ma no, che cazzo devo fare? Ma no, che cazzo devo fare? Ma no, che cazzo devo fare? E grazie alla prima batteria, la seconda batteria. Vedi? Quattro. Seconda batteria. Quattro. Adesso. Adesso. Com'era? E' ancora meglio, è vero, è ancora meglio. E' ancora meglio, è vero, è vero, è vero. E' ancora meglio, è vero, è vero. E' ancora meglio, 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 è vero. E' ancora meglio. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.